Sì, bene, bene, volume, che abbiamo... L'onorevole Razzi, volevo sapere il suo rapporto con le donne, come... Ah, adesso, con le vicine... Ehi, ma, scusa, scusa... E' bene anche le donne che è quel luogo, eh... Sì, ma no, oh, ma che si è raffanato, son... Ma mi si raffanato, che si è raffanato, l'amico più su Storia? Allora, però, per parco invece, salvo, senti altri, una voce, due, due, vai, io ti do la stessa honoraria dell'associazione Maschi 100%, posso così? Ragazzi, e qui? Cambia l'Italia! Sono giocato nella mia associazione per i diritti dei padri separati di Maschi, il senatore Antonio Razzi, Maschi 100%, come lo è? Maschi 100%, il grande cavaliere Silvio Berlusconi! Bravo Silvio! E uniti, con Forza Italia, riprenderemo l'Italia in mano! E per far vedere la mia democraticità, la prova con due, se tu vuoi, se Luzuria vuole, sarà qui ospite anche l'amico Vlali di Luzuria. Salvo quella copertina, guardami, salvo quella copertina! Corre, corre il testo! Ma dov'è qui? Uniti, vinceremo, uniti vinceremo! Però, Salvatore, devi rispondere... Allora, la dottoressa ha detto, sulle donne, tu mi sei detto, a te leppi, tu, vincentora, di senatore, sulle tante docce, non così freddo, questo, 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 stanno raccontando, si prendano une, e vengono il duetto! E poi, mi dici la cosa del teletro, io non voglio dire due cose prima, però, mi dico, ma pure, ne ho un parecchio, non c'è ne fai i film, ma non faccio i film, lo faccio per piacere, mi dici, per piacere. Come dici, se è guai, se non ci fa stare? No, no, sui scambi, uomo è felice! Sto vicino, dietro! Grazie a tutti.